ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora siamo qui su aliexpress perché perché voglio rispondere a una domanda di uno di voi mi ha chiesto informazioni riguardo un modello di batteria litio e allora la cerco qui perché perché c'è più vasta scelta ci sono più opzioni più accessori e più modelli però dico sono disponibili anche se beh sono disponibili anche su amazon credo su altri store mondiali ecco e allora sistema un attimo l'inquadratura perfetto e allora sono le in long video allora sono delle litio titanato che qualche mese fa ho fatto anche una video recensione ho spiegato come funzionano le caratteristiche e i cicli di ricarica i voltaggi con questo lascio sopra in descrizione oggi andiamo a vedere cosa offre il mercato oltre questo ho qualche consiglio perché perché ragazzi come vedi ci sono tanti di quei prodotti inserzioni e venditori che uno anche si confonde e questo ripeto è solo uno store questo è solo aliexpress e con la dicitura completa se poi vado a mettere lto in teoria dovrebbe darmi altro molto altro e infatti guarda qui quante ce ne sono e allora le lettio è un'altra chimica oltre all'elife più 4 oltre all'elion caratteristiche tecniche guardate le caratteristiche ragazzi è che una cella di questa ha un voltaggio di 2.3 volt con capacità che va dai 35 anche ai 45 ampere ora questi nell'esempio questo venditore alle 35 ampere ora disponibili aveva anche le 40 per ora però non sono disponibili si presentano così eccole qui hanno due viti filettate nei lati o meglio due due bulloni ecco per andare ad avvitare il dato vengono forniti sia all'ottiche vendita a cada una 2,3 volt e la voltaggio di funzionamento della cella ragazzi su questi bisogna fare tanta attenzione è vero che la tecnologia lto è più sicura delle lidio ioni perché sono stati fatti tanti tanti studi vediamo se trovi il video originale forse sai che qui lo hanno anche vedere questo video cos'è allora hanno fatto una chimica che appunto questa dell'eltio che ci aiuta a eventualmente su un incendio a a prevenire gli incendi perché contesti che hanno fatto hanno niente non è il video che cercavo lo avevo inserito anche io sul canale però non lo so comunque non prendono fuoco se cortocircuitati si scaricano piano 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 senza andare in combustione e in teoria sono più sicure ovvio in teoria in pratica ragazzi è da vedere è da vedere perché come in tutto ci sono le fregature come esistono le c 18 suoi 50 false esistono anche queste false cioè hanno tutte lo stesso contenitore tutto lo stesso brand stampato le stesse o simili vidi però quello che cambia cos'è è l'interno ragazzi perché alla fine questo che cos'è un contenitore che dentro c'è tutto il comparto litio gli avvolgimenti del materiale conduttore il liquido tutto diciamo la chimica vera e propria ecco e ci sono venditori che a optano per cloni più scarsotti la truffa numero uno può essere quella che ti vendono celle da per esempio come questa 2,3 volt 40 per ora però nel concreto nell'effettivo e non è da 40 per ora può essere 35 può essere 39 se sei fortunato ma può anche essere 20 può anche essere 15 può anche essere 10 ampere ora tutto sta in base a cosa vanno a mettere dentro perciò occhio ragazzi occhio a cosa andate a prendere questo per esempio un'altra inserzione by e bay ti danno tutto un kit composto da una due tre quattro cinque sei celle sempre da 40 per ora più una centralina che questa dovrebbe essere la bms che va interconnessa con questa qui sono i connettori positivo e negativo più tutte le barre di metallo per andare a fare diciamola l'interconnessione con i bulloni questo diciamo che un kit più o meno completo io non voglio fare pubblicità ai venditori perché onestamente non mi pagano prendiamoli ecco come spunto semplicemente qui abbiamo un altro video su questa inserzione che come vedi vendono allotti di 100 questa per esempio ai 100 pezzi 4.000 euro e saranno intorno alla quarantina di euro cada una un video ma non funziona 40 per ora ragazzi e caratteristiche tecniche eccolo qui 2,3 volt 40 42 per ora e capacità 37 per ora può anche arrivare per ciò può scendere anche eventualmente a 25 gradi con 240 per continuo a 37 per ora e typical energy 40 per 1 c 97 watt ora pulse power 40 300 ampere ecco il punto forte di questa tipologia è la corrente di scarica di impulso ragazzi una sola cella con 2,3 volt può dare la bellezza di 400 ampere forse anche di più 1550 watt 177 watt ora questa è la densità energetica poi abbiamo 79 watt ora per kg questa è la specifica dell'energia 1260 watt per kg perciò per fare 1200 watt di pacco batterie ti serve circa un chilo interessante e la resistenza interna 0 7 massima conti eccola qui eccola qui perciò max continuo perciò è 400 ampere ricordavo male 400 ampere di corrente diciamo nominale continua poi può avere picchi e infatti l'avevo detto che poteva andare anche oltre di 800 ampere non si scherza ragazzi una sola cella 800 ampere e infatti dove vengono utilizzate queste celle vengono utilizzate in pacchi batteria studiati ad hoc per alimentare impianti per impianti audio per le auto perciò dove serve corrente per gli amplificatori con punte molto alte e correnti arrepentine stabili e ben pulsanti vanno ad adottare queste prima invece utilizzavano quelle al al gel invece ora con le lto sono molto più piccole molto ma molto ma molto più prestazionali che fa il conto che questa è una cella ma se vai a fare un pacco batterie che hanno paralleli questa questa corrente ragazzi cresce cresce proporzionatamente questo sta a significare che hai corrente da vendere consigli per gli acquisti consigli per gli acquisti ragazzi così su due pieti vi posso solo dire acquistane una prova la se è vera se è reale se la qualità è buona e vai a prenderne altre però fai attenzione fai attenzione a non prenderne un lotto di 4 5 10 20 100 pezzi senza sapere che cos'è io anche dei fornitori o anche dei contatti in cina che potrebbero fornirmi queste celle però per varie motivazioni in questo momento non è una mia priorità vediamo se in futuro riesco ad organizzare qualcosa faccio qualche recensione vediamo le provo però non ora non è qua stretto giro queste sono le bms che devono essere bms dedicate ovviamente queste sono le le barrette metalliche forate bms lto 80 per come vedi grossa sia come connettori sia come cavetteria questa è un'altra tipologia di bms danno anche chitto completi anche qui su aliexpress comunque ragazzi e sono belle batterie grosse con non quattro di queste di sei fatto un 12 volt da 40 per ora e per base poi all'uso che uno ne dovrebbe andare a fare potrebbero anche essere un'ottima soluzione per questo video ragazzi è tutto io ti ringrazio per la visione del video iscriviti al canale e metto mi piace commenta e fammi sapere se conoscevi queste batterie vai a vedere anche l'altro video che molto interessante molto più dettagliato di questo e niente ragazzi sto lavorando anche a un nuovo progetto che è quello del costruzione di un sito internet troverai tutte le informazioni di contatto tutto quello che faccio i miei social i libri fascicoletti direttamente su amazon servizio di consulenza se hai bisogno di informazioni consulenze per varie diciamo settori batteri al litio fai date utensileria energie alternative stampa 3d cnc incisori laser ai tutte varie diciamo opzioni un riassunto di youtube dei video poi il corso batteri maker che te lo ricordo e suona sempre il telefono ma il corso batteri maker che questo qui cliccando qui vai a scaricare il volantino ufficiale poi questa è una zona dedicata ai rivenditori produttori che vogliono andare a fare delle recensioni invece per voi makers se avete progetti sia con batterie che ti fai date di qualsiasi altra cosa e volete inviarmeli andate diciamo a mandarmi una mail con le foto o un piccolo spezzone di video e io una volta a settimana andrò a fare ovviamente partirò quando avrò raccolto almeno una decina di queste foto o video farò un video a voi dedicato i lavori dei maker perciò se vuoi apparire nel video mandami tutto e poi ovviamente se vuoi sostenermi qua c'è la zona dedicata niente ragazzi per questo video è tutto grazie ciao